buongiorno da obiettivo news oggi 13 aprile san martino primo oggi anche l'international kissing day il bacio è un linguaggio universale che sopra le barriere culturali e linguistiche unendo le persone in un'esperienza intensa di connessione emotiva non importa la tua età il tuo stato civile la tua nazionalità è un'emozione che tutti possiamo comprendere e apprezzare la giornata internazionale è stata istituita nel 1990 l'origine precisa di questa giornata incerta ma si dice che sia stata influenzata da diverse tradizioni culturali che attribuiscono al bacio un significato speciale oggi anche la giornata nazionale del salame e cioccolato e la giornata della peach cobbler torta ripiena di pesche a pezzi vagamente somigliante alla più celebre apple pie tra i nati di oggi nominiamo antonio meucci 1808 e samuel beckett 1906 tra i scomparsi ricordiamo alex baroni 2002